Ciao a tutti e bentornati a Ventenni Peperoni, la rubrica di cucina dedicata alle ricette del fumetto di Fumetti. Quest'oggi lasciamo un po' da parte l'ambito della cucina a fumetti per spostarci in un altro ambito, quello dell'animazione. Scommetto che tutti voi ricordate il cortometraggio del 1938, la urlotte di Topolino, quello in cui Mickey Mouse prepara ai suoi amici Picco e Paperino una stranissima colazione, mettendo insieme gli ingredienti più disparati che la natura gli mette a disposizione, prendendoli letteralmente a loro. Questo cortometraggio mi ha sempre divertito moltissimo e ho sempre sognato di fare colazione allo stesso modo di Topolino, Pippo e Paperino, per cui oggi andremo a vedere come preparare insieme la colazione della loro opere di Topolino. Ecco gli ingredienti che vi occorreranno per preparare la colazione della loro opere di Topolino. Delle fette di pane in cassetta, del burro, della panna acida, latte, il caffè, ho già lì in piccola macchinetta, erba cipolina, patate rosse, delle pannocchie e un po' comero. Le patate che Topolino prepara a Pippo e Paperino nel cortometraggio non sono nient'altro che patate alla bavarese o patate al cartoccio. Sono davvero molto felici da preparare. Innanzitutto laviamo le patate, non le dobbiamo sbucciare. Prendiamo della semplicissima carta argentata e andiamo ad avvolgere in una nuova le patate all'interno della carta argentata. Stringiamo senza pressare troppo e andiamo a inserirle nel forno preriscaldato a 200 gradi di Tg per circa 60 minuti. Mentre le patate sono in forno possiamo procedere con la preparazione della farcicura. Andremo a farcire le nostre patate utilizzando della panna acida e dell'erba cipolina. Semplicemente mescoliamo l'erba cipolina con la panna acida aiutandoci con un cucchiaio. Mentre le nostre patate si stanno cuocendo nel forno teniamo la nostra panna acida nel frigorifero per mantenerla ben fredda e andiamo a tagliare a fette il nostro argomero. Lo dividiamo in metà e lo serviremo disponendo le fettine su un piatto. Per quanto riguarda le pannocchie andremo a cuocerle in acqua per circa 10 minuti. Queste sono già pre-cotte perché ovviamente non è per i pannocchie e quindi non sono riuscite a trovarle fresche. Le andremo a cuocere in acqua proprio come fatto con il nostro contatto. Mettete le pannocchie a bollire in una pentola e lasciatele cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo potete iniziare a preparare anche il caffè. Dopo circa un'oretta all'interno del forno le patate dovrebbero essere cotte. Per capire se sono effettivamente cotte potete bucarle con una forchetta. Se la forchetta entra senza problemi significa che le patate saranno cotte. Andiamo semplicemente a tagliarle a metà. Fate attenzione a non spottarli mi raccomando, non fate come me. Semplicemente con un cucchiaio le andiamo a farcire con la panna acida e l'erba cipollina. Tutto che avevamo preparato precedentemente. Tutto le vostre patate saranno pronte per essere mangiate. Prima di gustare la nostra colazione, come ultima cosa andremo a tostare in padella le fette di pane in cassetta e successivamente a cospargere con un velo di curo. Ed ecco la nostra colazione della culotte di Topolino pronta per essere gustata. Sicuramente è una colazione atipica, assolutamente non classica, con degli ingredienti messi insieme un pochino a casaccio. Effettivamente anguria, pannocchie, caffè, patate con la panna acida e tosse col burro sono un po' strani da mangiare insieme. Vediamo che effetto fa. Allora, voglio iniziare ad assaggiare le patate perché non ho mai assaggiato le patate alla panna acida ed è la prima volta che vi faccio. Buone, molto buone. Onestamente non le mangerei mai a colazione ma sono molto buone. I toast col burro molto dietetici, insomma, è un sapore che conosciamo. Non ciò zicca niente delle patate, già buone. Ora mangiare le panna acida è proprio un mix di sapori assurdo. Io vado avanti e nemmeno capisco cosa c'erano queste cose in una rollata, però buono. Un'anduria dopo le pannocchie, non avrei mai credito nella vita di mangiare un'anduria dopo una pannocchia. Buona, però non c'entra davvero nulla. È una colazione molto particolare, però ci sta con l'esperimento. Sono contenta di averla finalmente assaggiata perché è una cosa che sognavo di mangiare in una panna roccola. Se dovete decidere di replicare anche voi questa colazione e di mangiare queste cose strambe, fatecelo sapere, mandateci una foto. E grazie per aver seguito questo nuovo episodio di Viveno in Quarantena, ci vediamo alla prossima puntata. Lavate bene le patate. E... no, non le devo mangiare, che cazzo? Le patate si stanno cuocendo, teniamo la panna acida in forno. In forno, la panna acida in forno. Prendiamo della carta argentata, che è finita. Ma ce ne abbiamo un'altra comunque. Per preparare la colazione della roulotte ci serviranno... no, non so che devo dire. She'll be coming around the mountain when she comes.